Quindi cominciamo con un grande applauso per la FIDAPA di Boiano, gruppo rievocazione sannita, loro sono quasi 20 anni che rievocano il Versacrum Boiano, se vi capita magari l'anno prossimo ci andate anche voi, si tiene di solito ad agosto, come sappiamo anche Boiano è una città sannita, poi spiegheremo bene come i sanniti siano stati capaci di popolare tutto l'Appennino centro-meridionale, stiamo aspettando che il grande corteo sannitico prenda posizione. E allora di nuovo un grande applauso, sta per partire la manifestazione storica sanniti e gladiatori. Grazie. 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 Grazie.